Atto finale dei Play in Gold, domenica si vola a Capodorlando, una sfida che attende la The Optical Virtus Basket Molfetta con l'Orlandina. Servirà comunque vincere anche se i play-off sono in tasca, ma si dotta per un buon piazzamento. Coach Carolillo. Sì, assolutamente sì, l'ultimo atto di questo lungo campionato, prima di iniziare i play-off, andremo a Capodorlando a giocarci la nostra partita, sapendo di giocare uno scontro diretto con chi ha fatto gli stessi punti nostri e si trova nella stessa posizione, quindi sarà una partita dura, però ce l'andremo a giocare avendo rispetto per tutti, ma come al solito paura di nessuno. Ecco, ripartiamo dall'ultima partita, quella contro Ragusa qui al Palapoglio, una lunghezza di distanza, possiamo dire che fa male, che brucia, però per una partita complessa, ma dove comunque, nonostante tutto, la Virtus è riuscita a recuperare 14 punti di lunghezza dopo il primo quarto. Sì, quello sì, cominciamo col fare i complimenti a Ragusa, hanno fatto una grande partita, è stata una partita sia pure col punteggio basso molto intensa, loro sono una squadra molto fisica, fammi fare i complimenti pure ai due arbitri, hanno arbitrato veramente bene, niente da recriminare, se non il nostro approccio alla partita e il fatto di non essere riusciti a giocare di squadra, come ci era successo durante l'anno per molto tempo, nelle ultime tre partite soprattutto avevamo dimostrato di essere riusciti a superare il momento difficile, domenica ci siamo intestarditi troppo giocando individualmente, facendo circolare poco la palla, usando e abusando purtroppo del palleggio invece che far viaggiare e far correre la palla con qualche passaggio in più, le percentuali di tiro credo 14 su 32 ma soprattutto le 22 palle perse in una partita che per dire un punto solo è chiaro che gridano vendetta, però questo succede quando ci intestardiamo pensando che ognuno possa risolvere la partita da solo e noi non siamo certamente questo tipo di squadra, giochiamo bene quando giochiamo tutti insieme, quando limitiamo i palleggi, quando ci passiamo la palla molto di più, domenica non ci è riuscito, un pochettino perde merito nostro, molto merito va a Ragusa che ha fatto una grande difesa, noi in difesa non possiamo rimproverare quasi niente, abbiamo beccato 59 punti da una squadra che vi ha già oltre 80 di media, però sicuramente in attacco più di qualcosa non ha funzionato. Dunque domenica contro Rolandino un altro atteggiamento? Ma assolutamente sì, se vogliamo pensare di giocarci la partita al di là del risultato dobbiamo avere un altro atteggiamento, dobbiamo giocare molto più di squadra, passarci la palla molto di più, evitare le amnesie che ci sono capitate in difesa, abbiamo concesso forse troppo contropiedi domenica scorsa a Ragusa, però queste sono partite, quelle dei play-in e soprattutto sono state sette partite, che lo sarà anche l'ottava, molto intense, molto fisica ho detto ai ragazzi oggi stesso che personalmente mi interessa poco la posizione con cui accediamo ai play-off, è chiaro che a questo punto per una questione puramente matematica possiamo arrivare secondi, terzi, massimo quarti, però ho anche detto che nella mia esperienza ho vinto nuove campionati e di questi nuove campionati solo una volta ho vinto arrivando primo in regola season, ma per il semplice fatto che non c'erano i play-off, non erano stati ancora inseriti, anche se parliamo di 25 anni fa, tutto il resto dei campionati li ho vinti partendo da altre posizioni, secondo, terzo, un anno addirittura quinto, quindi credo che il fattore campo sia relativo, su questi campi si gioca a palacanesto, si gioca bene e quindi al di là di quella che sarà la nostra posizione finale, siamo felici di essere arrivati nelle prime quattro sicuramente su 24 squadre di questo campionato e ce la giocheremo fino alla fine.